Procurata crisi dei cinegiornali e gravi problemi per la famiglia dei lavoratori di questo settore Bisognerà arrangiarsi Dox Junior, il sapiente cane poliziotto, ce lo insegna Ecco com'è riuscito a vivere dopo essere fuggito da casa stanco di baticare in massacranti allenamenti Gli è stato sufficiente procurarsi un secchiello e trasformarsi in accattone all'angolo di una strada Tanto era sicuro che i suoi amici uomini lo avrebbero aiutato Raccolto una certa sommetta, Dox ha fatto visita al macellaio Proprio come una brava massaia L'asillo della carne quotidiana è così risolto Questo è il metodo adottato da Dox Ma si sa che i cani commuovono l'uomo Mentre è assai difficile che l'uomo commuova un tossibile Come del resto è impossibile che l'uomo si dia leggi giuste e autenticamente sociali Grazie a tutti Grazie a tutti